Sì, no no, questo è qua, no Bertolini ha da fare con lei e anche tu la parte in fondo che è quella pregnana, guinte con rigore, ti puoi affrancare alla Sofia però, vai vicino alla Sofia, lo fai vicino a lei, questa è la terza volta che lo piglio, Sofia tu ce l'hai il testo? Sì, lo puoi vedere con te? Sì, anche io ci ho dovuto vederla, buona, buona una prima, mi sa che sarà buona una prima I disastri sono sempre di più, con tutte queste case che vengo giù, in questo modo avanti non si fa, questa nostra terra non ci sopporterà, per passare degli anni abbiamo causato molti danni, che hanno fatto tanto male e non dobbiamo continuare, ma provare, cercare, tentare di sanare, perché siamo in bilico, situazioni di pericolo, nel ritorio ne risente, ma lo ignora molta gente, la protezione civile sa come fare, invita anche noi a collaborare, è arrivato il momento di imparare, prevenire e intervenire, il nostro territorio è fragile, ma proteggere il possibile, forza ragazzi che aspettiamo, ora è il momento che ci impegniamo Vanti così, dai raga, mettiamo la quarta, si riparte I vigili del fuoco sono venuti con lo scopo di darci le regole in caso di terremoto Ci hanno detto che tutti quanti nella protezione civile siamo partecipati Quando un incendio avvistiamo, il 115 subito avvistiamo, con il fuoco non scherziamo e soprattutto non lo provociamo, con i rischi non si rischia, ma qualcuno se ne fischia, ma noi no, noi ragioniamo E il buon senso utilizziamo, non si ragioniamo, con la vita non scherziamo Speciale allerta, che facciamo? Nello scantinato non andiamo, ma i piani alti raggiungiamo E se il terreno può scivolare giù, non stiamo lì a fare giù Andiamo ai tacchi, andiamo via in un posto sicuro, aperto in compagnia Voi adulti, per favore, costruite con rigore Non pensate solo al denaro, ma ad un bene più prezioso che la vita di ogni uomo E se un fiume vuole sondare, lasciategli lo spazio per poterlo fare Ma dove andate a costruire? Scegliete altri posti, per favore Non i rischi, non si rischia, ma qualcuno se ne fischia Ma noi no, noi ragioniamo, nel buon senso utilizziamo Con i rischi non si rischia, ma qualcuno se ne fischia Ma noi no, noi ragioniamo, nel buon senso utilizziamo Con i rischi non si rischia 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 Dai ragazzi, mettiamo una quarta Si, mi parte No, 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 no. 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 No, no, no.